E partiamo, in quale stato mi porti Mattino? Allora andiamo qua vicino, attraversiamo le Alpi e andiamo in Francia per noi ti faccio fare un salto nel tempo perché è giusto che con tanta bellezza venga accolta direttamente alla corte di Francia e alla corte di Francia c'era lei con lei che al popolo che chiedeva del pane voleva dare dei croissant Signori e signori è qua con noi con tutta la sua testa Esatto, direttamente dalla Francia Maria Antonietta La Calogera Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti